Ragazzi, sono qui per mostrarvi un composto di mia preparazione che elimina qualsiasi tipo di macchia. È una nuova invenzione. Questa è una macchia di caffè, come potete vedere. È qui da tanto tempo, è secca. Ora, con il mio composto, basterà spalmarne appena appena su tutta la macchia, bene a modo, tutti i contorni, poi basta aspettare alcuni secondi, faccio vedere la macchia che è una macchia reale, e fra pochi secondi vi farò vedere il risultato. Aspettiamo! Ecco fatto! In pochissimi secondi la macchia è venuta via completamente. Ho provato tantissimi prodotti, l'ho messo in lavatrice, non c'è mai stato nulla da fare. Con il mio composto, che se vi interessa potrò mettere in produzione, se avrà successo, ma visto i risultati penso di sì, potete scrivermi che vi darò i componenti. Non ci sono trucchi, guardate. Come potete vedere la macchia è completamente sparita.